vittoria ha imparato a dare i bacini ieri al fratellino leone e oggi a mamma chiara che gli chiede subito un bel bacino wow che funziona che funziona che matta pugnetto un besito a mamma leone si è preparato e andato a scuola e la piccola vittoria latte e biscottini blasmon che gli piacciono tantissimo buon inizio di giornata a tutti